Il triplo delle risorse, nello specifico 120 milioni di euro, per l'operazione Triton che raggiunge così il budget di Mare Nostrum. Il premier Renzi torna dal vertice straordinario europeo con un successo in tasca. Le conclusioni del summit offrono un colpo di scena in positivo e la solidarietà UE prende corpo con una serie di misure dell'applicabilità più o meno immediata. Il tema tornerà sul tavolo con l'agenda per l'immigrazione che sarà presentata il 13 maggio e col prossimo summit UE di giugno. Alla Commissione spetterà presentare proposte per modificare le regole di Dublino sul sistema di gestione dei richiedenti asilo e fare in modo che ogni paese possa fare il suo dovere in termini di solidarietà. Preceduto da un incontro a quattro tra Matteo Renzi, Angela Merkel, David Cameron e François Orland, il vertice dà l'ok alle misure d'emergenza. Il triplo delle risorse assieme al rafforzamento dei mezzi per le operazioni coordinate da Frontex, Triton e Posidon è il piatto forte più veloce. Si parla infatti di settimane e molti paesi si sono già detti disponibili ad offrire i propri mezzi, tra questi Francia, Germania, Belgio, Croazia, Slovenia e Norvegia. Intanto il premier britannico David Cameron offre la nave porta elicotteri Burwark, tre elicotteri e due pattugliatori con la mission di fare operazioni di soccorso e salvataggio, in stretto contatto con Frontex e le autorità italiane mal di fuori di Triton. Questo però a patto che le persone salvate siano portate nel paese sicuro più vicino, probabilmente quindi l'Italia, e che non chiedano asilo nel Regno Unito. Ammesso tutti d'accordo invece la necessità di lottare contro i trafficanti di esseri umani, restano però molti i dubbi sulle modalità. L'idea è quella di attuare un'azione militare che preveda azioni chirurgiche, con obiettivi precisi, per distruggere i parconi prima del loro utilizzo, quindi anche sulle coste libiche. Ma da più parti piovono interrogativi e perplessità, e il governo di Tripoli tuttavia ha già lanciato il suo alto là, facendo sapere attraverso il suo ministro degli esseri che non accetterebbe mai che l'UE bombardi presunte basi di trafficanti. Intanto l'ONU chiede all'UE un passo immediato, una missione di ricerca e soccorso con spiegamento di mezzi navali e aerei che eviti tragedie come quella di domenica. Ma come sottolineato dall'alto rappresentante Federica Mogherini, aumentare la portata della missione Triton determinerebbe automaticamente un aumento di salvataggi in mare. Grazie a tutti.